che ha bisogno di contratte esagerate, però qua c'è il mondello, una bella spiaggia, c'è il sole, sicuramente sarà bene, quindi... Fabrizio, parla con Panucci, parla con Panucci, no, se si può fare qualcosa. Ma poi il problema sarebbe la maglia, però il numero 10 poi chi lo tiene? Fanno la staffetta! Ah, ecco. Eh, vabbè, dai. Vabbè, ad Alex io lo posso anche lasciare, sinceramente. Grande! Se mi promette che viene qua, io lo lascio. Io metto il 55, metto 5 più 5, vediamo, qualcosa non metto. Fabrizio, sei un grande, grazie, grazie a Fabrizio Miccoli. L'altro Alessandro, Alessandro Del Piero, come forse possiamo anche... Sentite! L'entusiasmo che si respira a Palermo per la Juventus, che vuole confermare ovviamente quanto di buono ha fatto contro il Napoli. Dall'altra parte troverà un Palermo in piena emergenza, ma... Barzagli a Chiellini nei predi dietro, la concentrazione di Barzagli. Caseres torna in formazione al primo venuto, gioca spostato sulla destra nel 3-5-2, che prevede proprio Marcello Estica e Ribia caricatissimo a sinistra. Vidal, l'uomo in più, anche nell'ultima giornata di campionato, uno strepitoso recupera palloni. E poi, la grinta di Antonio Conte, come Al Pacino in ogni maledetta domenica. Vieni qua, vieni qua, vieni qua, vieni da questo, vieni da questo, vieni da questo, vieni da questo, vieni da questo. Vieni qua, Leonardo, Leonardo, la sfiorata l'ha messa sul secondo palo. Mica tanto la sfiorata, proprio deviata per bene. Allora, eccolo qui il gol della Juventus, calciano in questa zona, Bonucci. Siamo pronto, fai per bene, vai, bello, andiamo, andiamo. Le... La breccia! Benissimo, l'uomo in maniera. 4, 3, 2, 1, e... E' لا! Qu'è la pandemia! Tutti sopra, tutti sopra. Non si può andare in 3, non si può andare nelle rumi boncette. ma c'è una muta lì vai vai in tre andiamo a salutarlo andiamo a salutarlo eeeh primi ciao 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 ciao